Per parlare di realismo è necessario cominciare a parlare della verità in quanto concetto, della verità in quanto funzione concettuale. Già in altri video, ma per altri motivi e in altri contesti, ho introdotto la verità in quanto concetto, il concetto di verità, nel senso che ogni nostro discorso non può fare a meno di un riferimento alla verità e quindi se il nostro discorso è un discorso che si fonda su un concetto realistico della realtà o un concetto realistico dell'essere, non può che esso fondarsi sulla verità in quanto funzione concettuale. Che cosa significa parlare della verità in quanto funzione concettuale? Significa che la domanda su che cosa è la verità non riguarda il contenuto specifico della verità. Quindi chiedersi che cos'è la verità non significa chiedersi che cosa è vero. Chiedersi che cos'è la verità non significa chiedersi qual è il contenuto di una particolare verità, ma significa chiedersi qual è la funzione del concetto di verità. e la funzione del concetto di verità è una funzione irriducibile affinché ci possa essere un qualunque discorso che viene fatto. Da questo punto di vista quindi la verità non è qualcosa che può essere inquadrato in una filosofia relativistica, capite? In una filosofia che prende in considerazione il relativismo perché anche se noi diciamo ogni verità è relativa nel senso più ampio del termine stiamo asserendo che il fatto che ogni verità è relativa vuole essere una verità assoluta. In questa strutturazione elenctica dell'argomento che vi sto presentando vi è naturalmente l'esplicitazione del concetto del concetto di verità, l'esplicitazione di ciò che si intende per verità come funzione concettuale e quella funzione senza la quale risulta impossibile fondare qualunque altra argomentazione, qualunque altro discorso. Quindi della verità come concetto non se ne può fare a meno. ma che cosa quindi come si struttura come si struttura questa funzione di verità che noi possiamo anche dire questa verità la verità nel senso di funzione concettuale e quindi nel senso di funzione trascendentale quindi nel senso di verità nel senso di condizione attraverso cui qualunque altro discorso si deve strutturare. A che cosa fa riferimento? Come è strutturata? Qual è il fine? Il fine è dire come stanno le cose. ecco il significato realistico di verità ed in questo senso parliamo nel senso in cui ne parla anche William Alston di realismo alletico realismo alletico da aleteia alletes eccetera realismo della verità ed in questo senso parleremo di realismo perché perché la verità in quanto funzione concettuale in e in quanto funzione trascendentale si struttura secondo la priorità dell'esperienza. secondo la priorità dell'esperienza ora perché ecco perché diciamo che la verità si occupa di dire come stanno le cose e come stanno le cose in prima istanza ce lo dice l'esperienza. Ripeto come ho già detto nel precedente video e in altri video ci stiamo occupando della verità in quanto funzione concettuale e in quanto condizione senza la quale non vi è alcun discorso sensato per cui se noi diciamo fuori piove sarà l'esperienza confermare o annegare il fatto che fuori piove e in questo senso parliamo di realismo alletico realismo nel senso che vi è nella strutturazione della verità in quanto funzione trascendentale e concettuale una priorità dell'esperienza. ora la verità abbiamo detto che è trascendentale nel senso che è una condizione senza la quale è impossibile dare un riferimento al dire, al parlare ma è anche una funzione trascendentale in quanto anche le nostre azioni sono date in riferimento ad una verità anche se noi per esempio possiamo agire in funzione dell'utile faccio qualcosa perché mi è utile farla e non in vista alla verità e non in vista della verità qualcosa di utile che però non ha come fine la verità il fatto è che la verità è una funzione trascendentale perché perché essa è la condizione delle nostre scelte capite? è condizione delle nostre azioni in quanto le nostre azioni sono operate in base ad una scelta ma essa è condizione delle nostre scelte delle nostre valutazioni delle motivazioni delle nostre scelte facciamo un esempio pratico c'è stata la strage di Buccia nella guerra in Ucraina ora è in riferimento alla verità che noi agiremo decideremo sceglieremo il nostro atteggiamento nei confronti della guerra è anche in riferimento alla verità su quella che è stata la strage di Buccia quindi se la strage di Buccia è stata perpetrata da ufficiali russi questi ufficiali russi dovranno essere perseguiti come criminali di guerra ma se non è vero che questa strage di Buccia è stata perpetrata da criminali russi allora capite che si fanno avanti altre verità e non possiamo perseguire questi ufficiali russi come criminali di guerra capite come cambia l'atteggiamento nei confronti per esempio in questo caso della guerra russo-Ucraina rispetto alla verità sulla strage di Buccia è in questo senso che la verità è una funzione trascendentale non soltanto nel senso che ogni discorso ed ogni dire deve fondarsi sul fatto che possa esserci una descrizione della realtà ricordate il secondo punto di ciò che avevamo detto nel video in uno dei video scorsi ma è in riferimento a questa verità che noi o chi il soggetto agisce ed è in questo senso che la funzione che la verità è anche una funzione trascendentale altro esempio prendete il Nord Stream 2 il sabotaggio al Nord Stream 2 per dare degli esempi attuali se questo sabotaggio l'hanno compiuto gli americani i danesi gli inglesi allora voi vi farete un'idea di quella che è di quello che è la guerra russa-ucraina se questo invece l'hanno compiuto i russi se un sabotaggio fuori compiuto i russi allora vi farete un'altra idea ma da questo da queste verità sorgeranno nasceranno si origineranno azioni ben diverse nasceranno scelte ben diverse in questo senso quindi vedrete anche in questo caso vedrete l'altro aspetto cioè della verità come funzione trascendentale quindi come una funzione che non riguarda soltanto le condizioni di verificabilità degli enunciati e delle proposizioni ma la verità è una funzione trascendentale in quanto riguarda anche come funzione trascendentale le condizioni del vostro agire le condizioni delle vostre scelte ciò che determina le vostre scelte terzo ed ultimo esempio che vi riporto è quello appunto delle ragioni economiche della guerra è un esempio che naturalmente se voi capite se il soggetto intende che le ragioni della guerra russu-ucraina sono ragioni economiche dovute alla centralizzazione dei capitani alla polarizzazione debitori creditori al fatto che gli Stati Uniti d'America mirano a una deindustrializzazione dell'Europa al fatto che gli Stati Uniti d'America mirano ad un indebolimento della Russia al fatto che gli Stati Uniti d'America decidano per così dire condizionino la propria politica estera in riferimento al loro ad una forma di protezionismo le vostre scelte le vostre decisioni saranno di un certo tipo altrimenti saranno di un altro tipo però è tutto parte quindi queste vostre le scelte che il soggetto fa partono dall'avere inteso scoperto capito osservato la verità quindi dal fatto che ammettete che le cose stanno in un determinato modo sono descrivibili in un certo modo e non sono descrivibili in un altro modo la verità quindi come funzione trascendentale che ripeto non riguarda soltanto l'aleteia la possibilità di descrivere come stanno le cose ma riguarda anche l'etica cioè i principi l'origine ciò da cui si originano le vostre scelte e le vostre azioni in questo senso parliamo quindi di realismo aletico e quindi la funzione la verità in quanto funzione trascendentale è anche origine della di nuovi diritti cioè dei diritti all'etici cioè il diritto alla verità il diritto di conoscere la verità nel momento in cui noi cominciamo a parlare di diritto alla verità di diritto all'etico abbiamo immediatamente a che fare con la menzogna specialmente oggi quando la verità è subissata dalla digitalizzazione quando la verità è subissata dall'informazione dalla enorme quantità di messaggi a cui siamo soggetti e che mirano ad assoggettarci si può essere tentati di passare dalla democrazia all'epistocrazia che significa proprio perché c'è troppa informazione si può essere tentati di delegare le nostre scelte a presunti esperti di settori della realtà e quindi ci saranno gli esperti di particolari verità che potrebbero governarci ma qui in una scelta nella in questa diciamo se viene se venisse attuata questa possibilità questo significherebbe la fine della democrazia facciamo un esempio esempi che noi ormai abbiamo avuto e abbiamo a che fare quasi quotidianamente facciamo l'esempio di qualcosa che di cui si è parlato negli ultimi tempi per esempio le centrali ad energia nucleare in Italia i referendum questo non è possibile per ora farlo eccetera si parla di centrali nucleari di quarta generazione allora in quel caso forse è possibile decidere di costruire centrali nucleari si può essere tentati di dire beh deleghiamo qualcuno deleghiamo delle persone deleghiamo dei rappresentanti del popolo chiamateli come volete deleghiamo delle persone che hanno specifiche competenze in questo settore e diciamo loro di decidere loro se ci debbano o non ci debbano essere delle centrali nucleari in Italia semplificando molto ecco questa sarebbe una forma di epistocrazia però capite che questo tipo di delega è la fine della democrazia perché chi delega ammette sin dall'inizio di non avere la conoscenza necessaria affinché riconosca se il suo rappresentante dica o non dica la verità quindi in questo senso l'epistocrazia il delegare all'esperto le scelte significa avere rinunciato sin dall'origine ad una possibile democrazia ad un governo democratico perché capite che questo può essere effettuato sulla scelta per le centrali nucleari sulla scelta per le armi sulla scelta per l'economia perché poi tutto diventa materia per esperti e saranno quindi gli esperti a decidere e le democrazie che fine fa sulla base di che cosa avverrebbe questa delega sulla base dell'accettazione della propria ignoranza cosa che può anche essere utile dal punto di vista etico per mettersi a studiare per mettersi a conoscere ma se noi dobbiamo fondare la democrazia sulla base dell'accettazione della propria ignoranza beh allora non avremo più democrazia vi voglio far vedere cioè vi faccio vedere come paradossalmente la democrazia deve necessariamente ammettere che chi è in un sistema democratico deve essere qualcuno che si assume la responsabilità di ciò che conosce e anche di ciò che non conosce ed è il rispetto a ciò che conosce e a ciò che non conosce che egli voterà per alcuni tipi di decisioni e voterà anche per il proprio rappresentante ma anche rispetto a ciò che non conosce rispetto alla propria ignoranza ma in democrazia ci si prende la responsabilità della propria ignoranza chiamandola col nome vero ignoranza quando non so devo a qualcun altro che reputo che sappia e che possa rappresentare i miei interessi capite che qui bisogna essere sicuri quindi di chi rappresenta gli interessi di chi rappresenta gli interessi quel rappresentante del popolo capite l'importanza della verità io questo voglio sottolineare la verità non è qualcosa che può essere per così dire oggetto di delega la funzione la verità come funzione trascendentale è qualcosa di cui ogni soggetto si deve prendere la responsabilità in quanto funzione trascendentale non è delegabile quindi la questione dell'epistocrazia è fuori discussione perché se noi ammettessimo realmente un sistema democratico basato sull'epistocrazia non saremmo più in un vero e proprio sistema democratico che faremo a fare i video che starei a fare io qui a mostrare qualche grafico come me chissà quanti altri che staremmo a fare qui ci sono gli esperti sarebbero loro gli esperti delle verità specifiche settoriali andate da loro ma loro vi diranno siamo esperti ci vogliono tre anni per imparare allora voi non saprete mai nulla capite l'epistocrazia il fatto che il governo sia dato nelle mani di chi rappresenta e che si reputa esperto in verità settoriali non è democrazia il sistema democratico confligge con forme epistocratiche di governo e però in quanto cittadini che aspirano ad un sistema democratico dobbiamo dobbiamo quindi occuparci di quelli che sono i rapporti della verità e della menzogna quindi non basta soltanto parlare di verità nel senso di funzione trascendentale ma bisogna anche vedere quali sono i modi della falsità ed i modi della menzogna è indiscutibile il fatto che troppa informazione molta informazione è difficile da gestire da parte del singolo difficile da gestire perché molta informazione significa impegnarsi ad una selezione per esempio anche soltanto delle notizie però c'è anche una notizia positiva nel fatto che ci sia molta o troppa informazione se l'informazione deve per così dire esprimere menzogne o una sola grande menzogna queste informazioni devono essere organizzate si devono organizzare quindi la menzogna stessa richiede organizzazione quindi richiede anche un certo lavoro una certa fatica affinché la menzogna possa essere mantenuta e quindi la verità come funzione trascendentale in rapporto alla menzogna dovremo quindi dovremo pure vedere se parliamo di realismo il rapporto tra verità come funzione trascendentale in rapporto alla menzogna come falsità organizzata falsità socialmente organizzata ma com'è che un soggetto può capire per così dire l'organizzazione della falsità l'organizzazione della menzogna facciamo ancora un esempio Elish Klein Elish Klein è stata eletta nel partito democratico ci sarà un milione centomila un milione duecentomila hanno votato Elish Klein se voi in questi giorni fate un giro per i social su youtube eccetera se voi fate un giro anche anche nella tv nazionale Rai uno o tv private vedrete che ci sono due versioni di Elish Klein sono proprio due versioni di Elish Klein ora cercare la verità in questo caso non è mica semplice ognuno di noi che cosa fa no? che vado da Elish Klein salve piacere a meno che uno non è del pd si scola il pd può anche farlo però anche nel caso in cui qualcuno vuole conoscere personalmente Elish Klein non è che conoscendola personalmente tu riesci a capire qual è la verità abbiamo a che fare ognuno di noi parliamo di un utente medio può vedere un'intervista di Elish Klein un'altra intervista e poi può vedere un video dove viene analizzato quello che Elish Klein ha detto in un altro video viene analizzata la storia presunta la presunta storia personale di Elish Klein si fa circa un'idea ma voi vedete che in questo caso proprio in questi giorni ci sono due versioni una che la descrive come diciamo una persona d'elite no? dell'elite borghese con idee di sinistra comuniste per così dire quasi diciamo vicini alla filosofia francofortese di Adorno eccetera un comunismo elitario altri che la descrivono come addirittura inviata da Soros capito? qualcuno ci dice Elish Klein è soltanto una maschera in poche parole è il simulacro qualcosa è una persona che dice di voler fare determinate cose ma è soltanto uno specchietto per le allodole poi i vecchi reggenti del PD riprenderanno in mano il potere e lei si romperà le ossa facendo questa opposizione alla alla destra alla Meloni qualcuno ci dice sì è la persona giusta nel momento giusto perché di fronte ad una donna come la Meloni ci vuole una contrapposizione femminile e la Schlein per così dire rappresenta proprio questa controfigura di sinistra della figura di destra che è la Meloni e così via poi ascoltate per esempio le le interviste o le dichiarazioni iniziali dopo la vittoria e quindi dopo che è diventata segretaria del PD della Ellis Klein stessa Ellis Klein parla di sanità pubblica centralizzata ritorno alla sanità pubblica centralizzata salario minimo tentativo di fine del precariato si propone come rappresentante di chi non è andato a votare nelle ultime elezioni rappresentante di quella che è la classe dominata la classe sfruttata quindi da questo punto di vista può anche sembrare dalle dichiarazioni che fa essere una rappresentante di quella che fu la classe operaia che oggi è la classe subalterna e dominata poi andate a sentire che ne so Diego Fusaro che se la prende con la Ellis Klein perché è stata per così dire è stata perché in poche parole solo se ne ha parlato bene e quindi siccome siccome è pro LGBT siccome trova nel proprio collaboratore Zan Alessandro Zan un valido collaboratore eccetera siccome tutto questo non vale niente capite che facciamo il soggetto che si trova di fronte a queste versioni così contrastanti capito che come come deve regolarsi come ci si deve regolare senza voler partire da pregiudizi da condizioni pregiudiziali sulla verità non abbiamo altro metodo che aspettare capite non c'è altro modo che aspettare vedere quali saranno le battaglie parlamentari fatte da Ellis Klein vedere quale sarà dal momento in cui è segretaria del PD quale sarà la sua condotta parlamentare la sua condotta di protesta ci va del tempo ci va del tempo affinché si possa riconoscere la verità capite questo è il punto ci va del tempo affinché possa riconoscersi la verità quindi la verità i contenuti della verità non sempre anzi nella maggior parte dei casi perciò che ha un certo peso un certo valore non sono quasi mai contenuti immediati ma sono sempre dei contenuti mediati mediati dal tempo mediati dal corso degli eventi quindi la verità non è detto che si esprima e nella maggior parte dei casi proprio questo non avviene non è detto che si esprima nell'immediato nell'immediato nella maggior parte dei casi si compone invece la menzogna perché è questo perché nell'immediato noi avremo a che fare con la rappresentazione la rappresentazione istantanea di ciò che viene di ciò che viene detto realtà non può essere una rappresentazione della realtà perché la realtà è un processo qualcosa che avviene durante il tempo e quindi se vogliamo parlare di realismo all'etico e di conseguenza di realismo etico cioè se vogliamo parlare di un'etica che si fonda su azioni fondate a loro volta sulla verità non possiamo trascurare il fattore tempo non possiamo trascurare il fatto che la realtà sia un processo e quindi la realtà sociale come processo storico nel parlare di diritto quindi alla verità il diritto alla verità è qualcosa che si origina di un diritto da un diritto alla memoria pubblica della verità gli esempi sono quelli sotto gli occhi di tutti nel momento in cui la verità nella propria funzione viene separata dalla realtà come processo noi avremo per esempio in storia il negazionismo quindi abbiamo la negazione della Shoah la negazione dell'olocausto viene negata la memoria per fare un esempio avremo avremo la ricerca della verità in Argentina della verità sui desaparecidos diritto alla verità vi voglio dire diritto alla memoria pubblica della verità per non parlare di di ciò che è ancora presente per esempio questione Eternit vi è stata vi è stato l'esercizio per il diritto alla verità di una memoria pubblica è l'esempio dell'Eternit almeno quello quindi questo significa riconoscere il potere del concetto di verità ed il fatto che la verità in quanto funzione trascendentale genera diritti l'optimum sarebbe riconoscere inoltre che il diritto alla verità deve generare deve dare origine a specifici obblighi giuridici e politici perché ogni qualvolta ad una verità ha o ad una verità non ha corrisponde lo stesso obbligo giuridico e politico allora non vi è un esercizio del diritto alla verità nella propria funzione etica trascendentale che significa con tutte queste parole che cosa sto dicendo se faccio un esempio semplice perché queste cose sono cose molto concrete se in questi giorni si sta parlando della guardia costiera se la guardia costiera aveva o no l'obbligo giuridico e giuridico in questo caso di intervenire per salvare il barcone con gli sventurati che sono poi naufragati sulla costa di crotone chiaro qual è la verità se la verità è tale per cui sia che la guardia costiera sapeva che il barcone per così dire è in pericolo sia che il barcone non era in pericolo se l'azione obbligatoria di salvataggio poteva essere sospesa allora qui la verità non agisce come funzione trascendentale di un'azione etica e nemmeno di un'azione giuridica perché non avrebbe importanza quello che significava qual era il significato qual era la verità non avrebbe importanza qual è la verità capite questione ThyssenKrupp ma il responsabile dell'industria della ThyssenKrupp vi sto portando diversi esempi anche molto lontani tra di loro per essere chiaro ma il responsabile della ThyssenKrupp qual era la responsabilità del responsabile della ThyssenKrupp era vero o non era vero che sapeva quali erano le condizioni della fabbrica le condizioni di sicurezza della fabbrica perché sia che lo sapeva nel caso in cui sia che lo sapeva sia che non lo sapeva egli non avrebbe avuto responsabilità allora capite che qui non vi è un legame tra verità ed etica verità e giustizia obblighi giuridici è staccata e sospesa la verità dall'obbligo giuridico ma se la verità è sospesa dall'obbligo giuridico non siamo in condizioni di parlare di diritto tanto meno di diritto alla verità quindi il diritto alla verità deve deve questo è un principio ancora le cose non stanno così comunque deve dare origine a specifici obblighi giuridici e politici e quindi giungiamo alla verità concepita come un bene fondamentale cosa significa un bene fondamentale un bene di cui non si può fare a meno e quindi possiamo pensare di declinare la verità come secondo diversi termini del diritto e quindi possiamo pensare di declinare la verità come diritto alla conoscenza diritto alla conoscenza guardate che questi sono termini molto generali quando pensiamo di declinare la verità come funzione trascendentale e come quindi diritto alla conoscenza ci vuole niente che parliamo di scuola pubblica di università diritto alla conoscenza significa diritto alla conoscenza di tutti diritto alla memoria storica diritto al risarcimento perché se c'è il risarcimento ci deve essere il legame tra verità è obbligo giuridico e politico diritto al riconoscimento pubblico e diritto alla testimonianza diritto alla testimonianza diritto cioè di dire ciò di cui siete testimoni ognuno naturalmente di questi ognuno di questi settori ognuno di queste sezioni meriterebbe un approfondimento ma quello che mi sto preoccupando di dirvi è di sottolineare la funzione la verità di sottolineare il fatto che la verità ha una sua funzione trascendentale che non riguarda soltanto la descrizione di come stanno le cose ma in seguito al realismo all'etico che si occupa di dirci come stanno le cose a partire dalla priorità dell'esperienza da questo ne deriva una certa concezione dell'etica che ci porterà a dire che il diritto alla verità deve dare origine all'obbligo giuridico e politico e quindi darà origine al diritto alla conoscenza al diritto alla memoria storica diritto al risarcimento al riconoscimento pubblico alla testimonianza d'altra parte abbiamo anche parlato di menzogna e non possiamo trascurare il rapporto che vi è tra verità e menzogna però per ora mi voglio fermare qui quindi la verità come funzione trascendentale che dà origine all'etica e ad un'espressione e all'espressione etica giuridica politica della democrazia ora sì qui mi fermo ma continuerò continuerò su questa diciamo continuerò a parlarvi di verità ma nel prossimo video vi parlerò del rapporto della verità con la menzogna sempre tenuto conto della verità nella sua importanza dal punto di vista del sistema sociale e democratico pubblico la verità in quanto valore pubblico valore per tutti alla base stessa di ogni sistema democratico grazie e al prossimo video